Stoppo al conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di Timpazzo, il provvedimento è del governo regionale. Per 20 giorni la discarica rimarrà chiusa perché manca l'impianto di biostabilizzatore mobile dei rifiuti che riduce l'umido nel nero. L'amministrazione comunale di Gera lancia un appello ai propri cittadini. Da oggi in poi, dice il sindaco Domenico Messinese, bisogna praticare il più possibile la raccolta differenziata. Oggi più che prima dico a tutti i cittadini ingelesi di fare più attenzione alla raccolta differenziata perché più differenziamo meno materiale portiamo in discarica. La discarica da oggi è chiusa e non si sa per quanto tempo. Noi andremo a fare tutte le azioni per farla riaprire il prima possibile, ma per adesso ci costringe a portare i rifiuti che non si possono differenziare alla discarica di Lentini con un aumento notevole di costi sia di conferimento che di trasporto. Di conseguenza il fare correttamente la raccolta differenziata consentirà di contenere questi costi e mantenere ugualmente la città decorosa. Io vorrei ricordare che questi soldi li pagheremo tutti i cittadini perché c'è l'obbligo che il totale costo del servizio dei rifiuti è a carico della collettività. Quindi quando qualcuno non fa la raccolta differenziata e noi lo guardiamo in quell'istante noi stiamo avvallando una spesa in più che uscirà dalle nostre tasche. Forse è meglio che ognuno di noi incominci a tutelare il bene pubblico, tutelare quelle che sono le regole comuni che servono a tutti quanti per dare il giusto agio. Avvallare certi comportamenti significa consentire di aumentare quelle spese che verranno sostenute da tutta la città. È impensabile poter mantenere un vigile urbano per ogni cittadino di Gela. È facile dire facciamo i controlli, facciamo più multe. Io non voglio dire che bisogna fare più multe, io dico soltanto essere più rispettoso delle regole e forse tutelare di più la propria salute e la salute degli altri. Quindi la cosa più giusta da fare è quello in modo molto educato di sottolineare la mancanza che sta facendo e il danno che sta facendo a lui e a tutti quanti. Quindi fare la raccolta di Firenze in questo momento è un atto non solo obbligatorio ma ha una valenza in più. E forse è meglio che ognuno di noi, ogni singolo cittadino di Gela incominci a tutelare il bene di tutti.